Il campione, la guerra era una forma d'arte e si considerava il più grande artista di Mordor. Farne un mio comandante significava solleticare il suo orgoglio. Farne un mio comandante significava 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 il suo orgoglio. sembra che qualcuno voglia il mio titolo questo è un massacro per modo di dire poca roba a fila per bene l'alma e intruso e mettiti alla prova contro il campione di Mordor Mugluk tu verme mi divertirò così tanto a ucciderti no 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti